Il Dormeasco è un vitigno che nasce nell'Alta Valle Arrocia, nel comune di Pornassio. È un vitigno autottono della zona, viene vinificato in purezza, ad un'altitudine di circa 600 metri su livello del mare, quindi abbiamo una viticoltura prettamente di montagna, non meccanizzata. Viene vinificato in tre tipologie, partendo dall'Ormeasco, lo Chacetra e l'Ormeasco Superiore. Nel nostro dialetto Ligure, Chacetra significa schiaccia e tira, è un nome derivato dalla lavorazione, appunto, dalla prestatura delle uve, seguita da una fermentazione senza macerazione.